Spesso ci si domanda, si può davvero insegnare la creatività? La risposta è sì, può essere insegnata e praticata. Ma da dove partire? Bisogna essere in grado di vedere il mondo che ci circonda da una diversa prospettiva, in modo che si sia in grado di generare nuove possibilità o nuove alternative. Ma la capacità di creare alternative o vedere le cose in modo originale non accade casualmente. Essa è legata ad altre fondamentali qualità del pensiero, quali ad esempio la flessibilità, la tolleranza all'ambilità o all'imprevedibilità, la gioia della scoperta e della conoscenza di cose ignote. Quindi osservare, progettare, costruire in modo artistico sono le parole chiavi da cui partire per far entrare nel nostro quotidiano la creatività. Si può iniziare subito con molteplici azioni ed è questo uno degli obiettivi del corso Making, Arte e Creatività, in cui saranno mostrate attività capaci di stimolare la fantasia e l'acquisizione di competenze tecnologiche che sfruttano la metodologia STEM, mediante attività pittoriche, musicali e fotografiche. Vi aspetto quindi al mio corso!